Allora, ero indecisa se fare questo video o meno, sinceramente, però già che ci siamo lo faccio, sperando, anche se ne dubito, che arrivi da qualche parte, magari a qualcuno che ha il potere effettivamente di fare qualcosa di concreto. Quello che è successo negli scorsi giorni nella mia vita è stato un evento abbastanza spiacevole, sicuramente non lo auguro a nessuno, e ha sconvolto, diciamo, la mia quotidianità. Vale a dire che praticamente ho ricevuto, parte di un tizio, delle minacce su Telegram. Ma per capire, diciamo, di cosa sto parlando bisogna risalire a circa un anno e mezzo fa. Io ero appena arrivata a Berlino, da circa un mese, e stavo... il primo lavoro che mi era capitato di trovare era di fare le pulizie in un hotel. Quindi io alle cinque e mezza del mattino mi trovavo in un treno, e la stazione era completamente deserta, eccetto un uomo di colore che inizia a darmi a parlare. E mi inizia a parlare in tedesco, e io allora gli dico, anche abbastanza scazzata, perché erano le cinque e mezza del mattino, quindi come cazzo ti viene in mente di darmi a parlare alle cinque e mezza del mattino, di fare conversazione, così? E gli dico che non capisco il tedesco, allora inizia a parlare inglese, e io allora gli rispondo, diciamo, in maniera abbastanza vaga, al che lui a un certo punto mi chiede il nome e il numero di cellulare. E lì per lì, non sapendo lui chi fosse o cosa potesse farmi, essendo anche, diciamo, la zona deserta, perché ancora il treno non era partito, e tra l'altro nella stazione non c'era anima viva, perché ovviamente essendo le cinque e mezza chi vuoi chi ci sia, insomma, praticamente gli do il numero di telefono e il nome, pensando dentro di me che cosa potrà mai fare con il mio nome e il numero di telefono. Non è che fossi proprio felice di dargli il mio numero di telefono, non potevo neanche darglielo sbagliato, nel caso in cui ve lo stesse chiedendo, perché lui lo ha verificato in quel minuto stesso, si è chiamato dal mio cellulare al suo numero, quindi ha registrato in quel minuto stesso il mio numero. Ora, praticamente cosa è successo? Che quel giorno poi lui mi ha tartassato di messaggi e chiamate, dicendomi di uscire, di andare a prenderci qualcosa insieme, andare a pranzo insieme, io gli ho detto di no, e da lì ha iniziato ad aggredirmi verbalmente, dirmi, ah, tu sei pazza, sei una maleducata, di qua di là, insomma, praticamente prendo e lo blocco. Questo, un anno dopo, cioè a gennaio 2024, mi scrive da un altro numero su Telegram, e io a quel punto, diciamo, avendo capito chi era, lo blocco anche lì, e questo praticamente, un mese dopo, quindi febbraio 2024, mi scrive da un altro numero ancora su Telegram, e dicendomi, ti prometto che non tratterai mai più nessuno come hai trattato me. Quindi, per me questa cosa significa soltanto una cosa, cioè che questo qua vuole venire e accopparmi. Ovviamente, da qui io, diciamo, ho iniziato a preoccuparmi, e ho iniziato a pensare che magari lui, tramite il telefono, potesse risalire a dove mi trovavo, a casa mia, cioè, parlando con altre persone mi hanno detto no, sei tranquilla, non puoi risalire. Ora, io però questo qua non so chi sia, e comunque, cioè nel senso, se io lo vedessi, lo riconoscerei. Però il problema è che io non ho nessuna foto di lui, e tra l'altro i messaggi con lui si sono cancellati su Telegram, nel momento in cui l'ho bloccato, perché quando non hai il numero di qualcuno su Telegram, e lo blocchi, si cancella la conversazione. Quindi io, dopo che ho ricevuto queste minacce, sono andata dalla polizia, e ovviamente sono andata dalla polizia, senza prove, però gli ho dato tutti i suoi numeri di telefono, e gli ho dato, ok, il suo nome, anche se in realtà questo nome era un nome falso, a quanto pare. Quindi, praticamente, ho sporto denuncia contro ignoti. Questo ignoto, chissà dov'è adesso a Berlino, se magari può risalire a me in qualche modo, non lo so. Quindi io vivo, diciamo, in questa situazione così. E la cosa che, diciamo, di questo caso, che mi ha fatto abbastanza incazzare, è stato il fatto che, ovviamente, oltre, diciamo, ricevere le minacce di questo tizio che non so chi sia, e diciamo, non so che effettivamente che potere abbia, se abbia o meno la possibilità di rintracciarmi e uccidermi in qualche modo, non lo so, è stata proprio la totale indifferenza della polizia, che non ha fatto niente, che mi ha detto, ma non mi sembra così grave. E vi ho detto, ma io vi ho dato i suoi numeri di telefono, potete rintracciare, ma noi non facciamo queste cose. Sono andata dalla polizia postale, e loro mi hanno detto, ma noi non possiamo fare niente, rivolgiti all'ambasciata italiana. Sono andata all'ambasciata italiana, e loro mi hanno detto, ma noi non possiamo fare niente, chiama la polizia postale? E quindi sono andata di nuovo avanti e indietro, avanti e indietro, e nessuno praticamente ha fatto un cazzo. Quindi io sporto questa denuncia contro i gnoti. La cosa che però mi ha fatto incazzare, oltre diciamo al fatto di essere vittima di stalking da parte di sto tizio, a causa del quale sono stata costretta a cambiare numero di cellulare, e quindi è stata abbastanza lunga e spiacevole, perché ovviamente avevo collegato il mio numero di telefono a varie cose, è stata sicuramente una cosa che avrei volentieri evitato, è stato sentirmi dire da tante persone, eh ma tu perché gli hai dato il numero di telefono? Ma poi neanche ti piaceva, perché gliel'hai dato? Ma a parte il fatto che comunque potesse piacermi o non piacermi questo tizio, a me diciamo che non mi piaceva, non mi interessava avere contatti con lui, però comunque ero sola lì, e il fatto che mi devo giustificare per avere dato il numero di cellulare a sto pazzo criminale, ma comunque diciamo che vorrei anche dire, tra parentesi, che i femminicidi e lo stalking è anche a opera di persone che apparentemente magari si sembrano normali, persone con cui magari si è passato la vita e che ovviamente hanno il vostro numero di cellulare da tipo anni, e che poi improvvisamente quando magari li lasciate decidono di farvi stalking, uccidervi e farvi a pezzi e buttarvi in un cassonetto, quindi non è tanto il fatto perché gli hai dato il numero, io gli ho dato il numero perché in quel minuto ero da sola, avevo paura, non sapevo cosa potesse fare lui se io gli dicevo no. La totale indifferenza della polizia che ha detto ma a me non mi sembra così grave, comunque tu se lui ti ricercano di rispondere, bloccalo, torna da noi, eventualmente vediamo cosa possiamo fare. Ah grazie mille. Quindi diciamo che questa cosa mi ha fatto rendere conto che lo stalking e il femminicidio sono reati soltanto quando smettete di respirare, perché prima se respirate e andate a sporgere denuncia non è reato. Tra l'altro mi vorrei ricollegare anche al fatto che durante tutta la storia di Giulia Cecchettin che è morta eccetera eccetera e la polizia di stato appunto ha detto, si è schierata insomma dalla parte di Giulia Cecchettin, ah povera Giulia Cecchettin ha tipo scritto un post, tantissime donne hanno commentato questo post della polizia di stato dicendo ma quando sono venuta io a sporgere denuncia mi avete rimandato a casa senza fare niente e loro guarda caso hanno bloccato il post e questo è successo in Italia. Questa cosa di cui sto parlando io è successa in Germania, quindi non è soltanto un problema della polizia di stato italiana, è un problema proprio mondiale, per cui diciamo che io sono figlia di nessuno e quindi diciamo che se io vado a sporgere denuncia la gente non si attiva perché chi cazzo gliene frega a loro della figlia di nessuno. Io vorrei vedere però se fosse successo a qualche figlia di qualche politico o non lo so, se magari si fossero, cioè si sarebbero attivati in qualche modo. Dopodiché mi viene appunto da dire che una persona che è vittima di stalking e di femminicidio vuole due volte, la prima volta quando non viene creduta, non viene ascoltata dalle persone intorno a lei, la seconda volta poi quando effettivamente viene uccisa dallo stalker in questo caso. Dunque, cos'altro mi viene da dire? Mi viene da dire che è schifo, mi viene da dire che non è un fallimento per me, diciamo essere vittima di stalking, eccetera, è un fallimento per la società e sinceramente se lo stalker mi uccidesse, forse è meglio perché così eviterei di condividere l'ossigeno con qualche testa di cazzo che non fa niente. Grazie a tutti.